Ciao a tutti e ciao allo Xiaomi Faimai Ofimi X8 SE Insomma, è un nuovo drone, ma in realtà non proprio di Xiaomi diciamo che è compatibile con l'ecosistema Xiaomi e che Xiaomi ha sponsorizzato l'azienda che lo produce un po' come già successo del resto con Mijia e con tante altre aziende cinesi Il concetto è che comunque questo è un nuovo drone ripiegabile che assomiglia effettivamente a un DJI Mavic e che mi è piaciuto molto Allora, questa recensione sarà molto breve per due motivi il primo è perché fa un gran caldo e mi sto sciogliendo il secondo è perché effettivamente sì, questo drone mi è piaciuto quindi vi dico subito che in generale ve lo consiglio dovete però essere coscienti di quello che state comprando cioè assomiglia, è vero, come concetto a quello del Mavic Pro alzate le gambe davanti, poi quelle di dietro, di nuovo quelle davanti e poi quelle di dietro e viceversa per ripiegarlo e avete il vostro drone pronto a volare nonostante appunto una volta piegato sia molto compatto però le similitudini con il Mavic al di là appunto dell'aspetto finiscono qua perché sono due droni di tipo ben diverso anzitutto questo qui non ha alcun tipo di obstacle avoidance dovete stare attenti quando lo guidate perché se c'è un albero o peggio ancora un muro lui ci si avvicinerà tranquillamente se voi schiaccerete la levetta e quindi beh insomma state attenti a non falciare qualche albero come ha fatto per esempio il sottoscritto a parte questo si, si guida piuttosto bene ma non è pronto e reattivo come un Mavic ora non voglio fare poi tutta la recensione con un continuo paragone diciamo che secondo me per un drone della sua classe si guida bene è anche tutto sommato piuttosto veloce arriva a circa 18 metri al secondo in modalità sport però non aspettatevi appunto una reattività dei comandi paragonabile diciamo a droni di fascia superiore c'è sempre una certa diciamo latenza soprattutto quando farete delle manovre diciamo in velocità non aspettatevi appunto che lui risponda istantaneamente quindi appunto attenzione alla presenza di eventuali ostacoli perché ci sarà comunque un tempo un po' morto di frenata nel quale lui dovrà un po' assestarsi e la stabilità in generale soprattutto se ci fosse del vento non è ottimale il gimbal fa tutto sommato un buon lavoro il drone in sé però appunto non è fermo in cielo come ne ho visti altri quindi al solito ci vuole un pochino più di prudenza ma secondo me per il target di autenti che ha va benissimo anche perché nonostante sulla confezione ci sia scritto che il drone potrebbe arrivare fino a 5 km da voi attenzione perché quel valore si riferisce alle frequenze FCC con le frequenze CE il limite dovrebbe essere di circa 1 km e 800 metri io in realtà non ci sono mai arrivato mi sono fermato di solito intorno a 1 km 1 km e 100 prima che scattasse il return to home automatico in campo aperto e senza apparenti interferenze almeno che io sappia se poi ci fossero degli ostacoli come alberi o altro tra voi e il drone la distanza potrebbe anche diminuire ma in fondo va bene poterlo mandare a 1 km di distanza per di più senza obstacle avoidance va benissimo le riprese devo dire che mediamente mi hanno abbastanza soddisfatto sono al massimo in 4k i colori sono un pochino saturi se devo essere sincero a volte anche un po' troppo e c'è una tendenza al freddo piuttosto che al caldo però ci sono vari preset potete regolarli in base un po' ai vostri gusti quindi una volta che avrete preso confidenza con il drone poi magari potete fare gli aggiustamenti per avere anche quella tonalità di colore che più vi aggrada il video di massima comunque ripeto che i video sono piuttosto godibili ci sono anche alcune funzioni tipo droni per automatizzare diciamo il volo ma non è che riescano particolarmente efficaci perché devono comunque riconoscere il soggetto e poi allontanarsi da lui in alcuni casi lo hanno fatto bene in altri meno tutti questi automatismi che non per insistere ma effettivamente dji ha sdoganato qui ci sono ma non funzionano altrettanto bene e poi c'è il telecomando è abbastanza grossotto come vedete però è comodo perché si inserisce facilmente qualunque tipo di smartphone guardate quanto si allarga ci sono poi in confezione gli adattatori per tutti i tipi di cavo che volete micro usb usb c lightning quindi è facilissimo inserire qualunque tipo di smartphone è molto rapido il collegamento e soprattutto lo smartphone è ben assicurato all'interno di questo controller ora è vero che magari ce ne potrebbero essere di più compatti però io nel complesso mi ci sono trovato piuttosto bene gli stick sono molto sensibili sia quello destro che quello sinistro iniziando a muoverli piano piano vedrete il drone salire o scendere e poi accelerare e decelerare di conseguenza peccato che forse siano un pelino troppo morbidi se fossero stati forse un filo più rigidi li avrei preferiti così come avrei preferito se la base fosse stata circolare e non squadrata ma quest'ultimo dettaglio è effettivamente soggettivo mi è anche poi un po' mancato un laccettino non dico una tracolla ma quantomeno un laccettino per metterlo al polso ma su tutto il resto non c'è assolutamente niente da dire davanti abbiamo tutti i comandi che servono di più ovvero il retard to home e il decollo oppure atterraggio e anche uno stick configurabile per decidere voi cosa fare a seconda delle quattro direzioni in cui lo potete muovere e poi ci sono tutti i vari tastini sul retro per scattare foto e catturare video al volo per regolare l'inclinazione della fotocamera per correggere l'esposizione c'è un po' tutto quello che vi serve per manovrarlo senza praticamente mai dover andare a interagire con l'app app che comunque devo dire che funziona bene fa il suo dovere a tutti i controlli del caso è una buona grafica nel complesso insomma a me è piaciuta l'ho provata principalmente su ios ma anche per quel poco che ho visto su android non dà assolutamente problemi e poi non vi ho detto dell'autonomia ci ho fatto davvero come dichiara l'azienda circa mezz'ora di volo continuato in una situazione di vento tutto sommato piuttosto scarsa per non dire assente ma comunque è un buon risultato ha una buona autonomia questo fai mai x8 se è anche tutto sommato un buon prezzo variabile un po tra e 400 e 500 euro l'abbiamo preso da gear best dipende come ben saprete un po anche dal momento e dalle offerte è un ottimo prezzo per un drone del genere che secondo me è anche forse un po l'ideale per avvicinarsi a questo mondo perché vi dà un dispositivo relativamente compatto poco più grande di una mano e che potete portare facilmente a giro con voi trovate come sempre ulteriori dettagli e soprattutto i sample nella recensione completa che ho pubblicato come ogni volta e che come ogni volta vi invito a leggere su smartworld.it e parlando di cose che faccio ogni volta a fine video mi raccomando like o dislike se vi è piaciuto o meno lasciate magari un commento e se davvero vi fosse piaciuto tantissimo iscrivetevi al canale e condividete soprattutto il video con i vostri amici un saluto e alla prossima